musica 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 bravo che dobbiamo parlare? bravo musica musica ma già in funzione ciao tantissimi auguri agli sposi musica ciao auguri ciao Stefano che dobbiamo parlare? ciao ciao sposi augurissimi siete bellissimi bravo pescioloni siete grandi butta al lupo ciao quando farai il viaggio di nozze portaci un regalo e un bel cuginetto che si cerca di vogliamo fare gli auguri alla sposa bravo chi caspito te l'ha fatto fare per fortuna ha trovato un bravo ragazzo questo è indiviso quindi lo voglio sempre indiviso è serio senza diviso però augure gli sposi ciao ciao ragazzi finalmente siamo giunti al grande giorno tantissimi auguri e il figlio di nozze il figlio di nozze quindi il figlio di nozze applausi 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 che cos'è dopo chi vuole farà una qualcosa che viene preso quando lo diranno loro perché verrà messo poi bravo non dobbiamo guardare bravo ok ok ti auguro un mondo di bene e 100 anni di felicità ok ok ciao Erwin e Stefano non mi fai ciao Erwin e Stefano noi ti vogliamo augurare 100 anni di felicità sempre in buona salute e amici di Ottavien ora è finito? non lo so non lo so come si fa tutti insieme battiamo le mani e parta il video ora è finito? non lo so dico io una cosa e poi la giro ok e poi alla fine auguri auguri e poi ti facciamo con le mani così ma non è che già ci registra non lo so insieme bravo ma già in funzione ciao Erwin sei arrivata a Parma che eri la più piccola di tutte ti abbiamo cresciuta ti abbiamo tenuta in mano per la mano e sei arrivata mi ricordo i tuoi discorsi a 30 anni ma già scusa come si usa a Napoli e sei arrivata a 30 anni e ti sei sposata auguri 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 sei bellissima meravigliosi tu e Stefano tanti auguri Ermi siete bellissimi ciao Stefi eh sì ciao ciao Ermi scusami però sono un po' emozionata e non partecipo volentieri ai matrimoni ma tu ci sono avuta molto 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 volentieri Ermi ciao tesoro auguri Ermi sei il nostro orgoglio solo questo allora auguri Ermi auguri Ermi buono come dice tuo padre Antonio D'Ambrosio per noi Ambrogio stefano stasera in zuppa e biscottino bravo e biscottino pescioloni eh la Genova Ermenia mi raccomando tu e succhia il gamberone il gamberone il gamberone il gamberone auguri potremmo decidere fuori ma di sissima a due persone come voi ahahah tardi finalmente sposa e miscintosa auguri auguri siete bellissimi buona giornata buona vita eccezionali eccezionali guarda amico apparente è diventato ahahah un bacio auguri ciao come on è? mi cervello un giorno quando ho detto o Toma ti capite se esfuza da me non puoi se è mica o Toma e se esfuza da me rapidi è bella bacio Stefano questa è già la quarta volta che entro qua dentro ti ho portato tutti i nostri cugini ciao Stefano ce l'hai fatta a prendermi è solo per una cosa sei messa la divisa Stefano hai fatto tante cose vedi quanto è bello devi fare uno pure tu bello due o tre mele due o tre mele che hanno spiegato stasera cosa devi fare stasera stasera ci ciuppa il biscottino ciao a tutti l'ha fatta Stefano se l'hai presa se l'hai presa amore però quando andavamo a ballare è amore è un'altra cosa ciao ciao io sono zianna la zia storica ma perché sono bella? a Herminia l'ho vista nascere crescere a casa mia sempre quindi per me è stata come una figlia poi quando ho saputo che si era fidanzata con questo bellissimo ragazzo speravo tanto che si sposassero ed è avvenuto questo giorno è bellissimo sposi vi auguro tutto il bene di questo mondo e tutto ciò che il vostro cuore desidera Stefano e Herminia non ci credete sono il mio nipote preferito ma quello che mi domanda ma è sicuro che parte non è che è tutto parte parte è necessario un portino mi cazzo ma chi mi gioco grazie va bene auguri sposi grazie di tutto il posto è bellissimo un bacio un abbraccio e tanti auguri ancora prosperità fate presto maschio no fatti stare tranquilli ancora auguri Herminia Stefano questa è zialina questa è zia Anna è venuta apposta per farvi gli auguri auguri e una grande felicità vi saluto vi saluto un bacione a tutti e buon presiego e buon presiego parla prima la prima carissima Stefano e Herminia non possiamo oggi che essere felici insieme a voi in questo giorno particolare auguri per tutta la vita tantissimi auguri un bacione auguroni e amatevi sempre come questo giorno allora a noi vi auguriamo tanta felicità ma questo è un luogo comune tanta serenità è un luogo comune anche questo abbiamo ribadito già di amarvi con fantasia perché è un modo migliore per non sentirsi sposati e a questo punto diciamo augurissimi augurissimi vi vogliamo bene per sempre ciao ma c'è in funzione allora facciamo tanti 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 auguri di una vita serena piena d'amore e un grosso abbraccio a mia nuora e mio figlio e una lunga vita piena di felicità a entrambi a entrambi tutti e due grazie un bacione vi vogliamo bene cari nipoti auguri per oggi e per tutti i giorni della vita ciao auguri sia Arminia e sia zio Stefano 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 auguri è stato tutto squisito ma la prossima volta quando volete ce lo offrite di nuovo questo pranzo con l'arrivo di un bebe con l'arrivo di un bel bebe maschio femmina che sia che assomiglia a mamma a papà un po' a mamma un po' a papà prova sì prova funziona non funziona va bene ragazzi forse sarò l'ultimo a farvi gli auguri però niente sono i più importanti come voi sappiate e niente vi auguro ogni bene tanti auguri anche da parte di Gianluca anche se non c'è vi voglio bene Fabio vai Firminia Stefano tanti tanti auguri per il vostro matrimonio mi dispiace che non sono lì con voi a festeggiare e va bene così vi voglio bene tanti auguri agli sposi auguri auguri Stefano Erminia fai la brava e anche tu Stefano andateci piano piano pianino vi vogliamo bene tanto tanto parte o non parte non lo sappiamo se parte ad ogni modo Erminia noi ti facciamo tanti auguri e che il vostro amore quello di tuo e quello di Stefano sia duraturo e che possa durare un'eternità e andate sempre d'accordo cercate di comprendervi l'uno con l'altro uomo parlo breve dici qualcosa pure tu e che mi vuoi fare papà Giovanni fratelli e sorelli ti auguro il meglio a te e a Stefano vai vai continui no no dai niente niente va bene e mi abbiamo detto tutto questa è una cosa a voler fare serio ma alla fine è riuscita una cosa già comunque Erminia e Stefano auguroni vi bacio vi porto nel cuore e vi voglio bene allora niente questa è una canzone una stupidaggine è entrata una ragazza mora com'era buona l'ho invitata a cena ha detto no c'ho la corona ma non importa che si principes e io ti botte te ne do lo stesso ma guarda con un sguardo malandrino e mi dice guai io ti posso ma vengono ue covid io mi sento tutto frid frid ue covid mi amiamo a se bofa l'ho rivista l'altra sera com'era elegante con lo sguardo smaliziato è provocante ma io non tengo niente di regale ho la polmonita interstiziale come guarda con un sguardo la monella e mi dice guaiò ma tu puoi mettere a pecare ue covid io mi sento tutta frida frid ue covid mi amiamo a se bofa ma terza e ultima strofa la facciamo dopo mille tentativi infine l'ho incontrata era lì sotto casa sua tutta abbardata e mamma mia muovere buona i coscietri lai con la corona ma mi guarda con lo sguardo seducente mi dice guaiò ma qualuncetri chi se ne mangia uno stossicate ue covid io mi sento tutta frida frida ue covid ue mi ha chiamore se bofa buona botta se potta auguri il prossimo matrimonio è quello di assalto i miei auguri congratulazioni vabbè non è scusa smessi ci riesci pure le gamme ricci non lo so possiamo andare vai tu al posto nostro se voi non ci sono problemi lo fai al posto nostro ragazzi ringraziamo tutti ringraziamo tutti per questa bellissima festa anche grazie a voi grazie a voi grazie a Giuseppe grazie a Giuseppe grazie allo staff a tutti ringraziamo anche il locale Sant'Orsola che ci ha ospitato ringraziamo i nostri genitori che comunque ringraziamo anche i nostri genitori ci aiutano sempre e un ringraziamento anche va a Fabio a Fabio anche se non è qui ma è stato per tutta la giornata nel nostro cuore appena torniamo a casa ci rifacciamo ci rifacciamo sicuramente noi ci amiamo oggi ci siamo sposati e lui è molto mio marito mio marito suo marito ciao ciao ciao